Ciao del video! Oh, fra poco è Natale, mancano davvero pochi giorni e fra un po' sarà... Eh sì, eh sì Oggi è il 18 e poi ridendo e scherzando sta anche finendo questo 2017 questo 2017 che... vabbè, come tutti gli anni ci sono le cose più... più... liete divertenti e quelle meno felici, eccetera ma quello ogni anno, quello ogni anno, si sa ma per me, per voi, tutti quanti quelli che stanno guardando questo video è così alla fine è sempre così, è spesso così, insomma, diciamo è difficile che ci sia un anno che succedano solo e unicamente fatti belli e divertenti magari, ma sarebbe anche un po' strano ecco è strano però, 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 devo dire che mi sono divertito un sacco mi sono divertito un sacco questo 2017 abbiamo fatto delle altre giornate con cui ci siamo incontrati con altri amici amici conosciuti tramite YouTube ovviamente qua gli amici, qua con la mia compagnia non c'è mica problema, no? ritrovarsi e cose a parte quelli che hanno la famiglia con i bambini che ho così, che adesso magari escono di meno, eccetera però, nel senso, voglio dire con gli amici poi che senti tramite YouTube, eccetera in rete sono riuscito a trovarne anche quest'anno veramente tanti sono riuscito ad andare a trovare ed è una cosa sempre bellissima divertentissima passare queste piacevolissime giornate insieme a tutti loro e niente e quindi quello che mi auguro per il 2018 sia proprio questo riuscire ancora a fare tante di queste bellissime divertentissime giornate insieme agli altri di persona di conoscere dal vivo ancora ancora più persone di quelle che ho conosciuto quest'anno e comunque, insomma sì, sì ci siamo divertiti non so perché uso il plurale ma uso il plurale forse perché voi, i miei iscritti vi sento insieme a me, no? è un po' come io non seguo il calcio non sono tifoso di calcio però quando il tifoso parla della sua squadra dice noi abbiamo comprato questo noi adesso andiamo a combattere a combattere sì buonanotte vabbè avete capito si usa sempre noi 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 la nostra squadra fa questo questo quest'altro noi noi anche se alla fine non è che ci cacci soldi tu almeno cioè dipende dipende chi sei tu adesso qua a guardare però di solito e niente ragazzi questo qua era un video per anticiparvi gli auguri di Buon Natale avete visto che ho creato un sito nuovo un sito internet nuovo dove potete vedere oltre alcuni video un assaggio dei miei canali YouTube ma si vedono anche ho organizzato un po' le fan art che mi sono state mandate ho messo lì delle fotogallerie soprattutto delle foto dei raduni che ho fatto in tante a bellissima gente che saluto ciao vi saluto tutti ciao e niente continuo a dire e niente e niente e niente è il mio intercalare c'è poco da fare vi posso far vedere il presepe che c'è lì dietro adesso mi muovo mi muovo ragazzi vi faccio vedere il presepe che c'è lì ecco in questo momento non so cosa sto riprendendo perché sto riprendendo un po' caso genio genio di uno svideo dai 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 poi ci sentiamo un po' più avanti dai ciao 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 volevo dire qualcos'altro ma su Telegram forse non subito ma partirà breve una storia divisa in varie parti racconti solo scritti sul mio canale Telegram quindi ci saranno novità anche sul canale Telegram insomma poi sapete che potete seguirmi in tutti i social su Instagram su Telegram su Facebook seguitemi dove volete ciao mi prudeva il naso scusate ragazzi però a volte dicono che se uno prude il naso arrivano dei soldi c'è quella leggenda Babbo Natale portami soldi ah ma sono io Babbo Natale chi sono io Babbo Natale ciao